Io sono Marco del gruppo Astrofili Savonesi e questa sera abbiamo con noi Ezio Torassa degli NFN di Padova e poi dopo Andrea ce lo presenterà più adeguatamente. Prima di iniziare vi ricordo il prossimo appuntamento venerdì 7 maggio avremo con noi Ferdinando Pattate dell'Eso che ci parlerà di Super 9. Vabbè grazie al CERN per ospitarci e con la sua piattaforma Ezio per essere con noi, Sandro che oggi regina non la fa e Andrea e Roberto che ci mandano in diretta sui canali YouTube. No Sandro oggi penso che faccia regina. Grazie anche a Sandro. E niente non ruba altro tempo passo la parola ad Andrea e buon ascolto a tutti ci sentiamo dopo. Grazie Marco. Buonasera a tutti. Questa sera parliamo di modello standard e descrizione delle interazioni fondamentali. Il modello standard è la teoria che abbiamo per spiegare quali sono i mattoni di cui è fatta tutta la materia e come interagiscono tra loro. È il modello delle forze elettrodeboli e delle interazioni forti e i mattoni sono i quark e i leptoni e il modello standard ci dice come interagiscono tra di loro questi componenti. A farlo è il professore Sottorassa che è il primo ricercatore della sezione INFN di Padova ed è la persona più adatta a parlarci di questo visto che ha insegnato per dieci anni proprio modello standard verifiche sperimentali modello standard ai corsi di dottorato dell'università di Padova. Ezio si è laureato a Genova e ha conseguito il dottorato di ricerca a Torino. Si è occupato appunto per dieci anni di didattica, di divulgazione e per due anni, del 2011-2012, è stato Monte Carlo product manager dell'esperimento CMS e nella sua fase finale di scoperta del bosone di Higgs. Attualmente è membro del collegio del corso di dottorato in fisica dell'Università di Padova, è rappresentante per l'Italia del comitato esecutivo dell'esperimento Bell 2, dell'acceleratore Kekback, del nuovo acceleratore a Tutsuka in Giappone ed è coordinatore italiano del progetto Dark Matter. Quindi una persona che ha dato molto alla ricerca, alla divulgazione su questo argomento e che darà molto anche a noi questa sera, quindi gli do subito la parola. A te la parola Ezio. Allora, vedremo un'introduzione relativo all'atomo e alle particelle elementari. L'atomo come storia iniziale per capire come si è evoluta la storia della scoperta delle particelle elementari. Le forze, perché se dobbiamo parlare del modello standard dobbiamo avere un quadro sulle particelle e sulle forze. Sono cose che spesso vengono descritte, spero di farvi una descrizione un po' diversa dal solito. Poi vedremo il modello standard e il bosone di X. Qua sono sicuro diverso da come viene solitamente presentato perché vi chiederò un po' di pazienza. Non ci sono solo un po' di slide con delle foto, ma ho ripreso un po' di teoria che chi si è laurato in fisica ha studiato. Ovviamente, dato che il pubblico può essere vasto e magari c'è chi invece di teoria non ne ha fatta molta, ho cercato di semplificare. Quando si va un po' nei dettagli, non preoccupatevi, basta che vi distraete per due minuti. Non c'è bisogno di acquisire ogni singola trasparenza per andare avanti. Quando vado un po' nelle spiegazioni un po' più tecniche, se non sono nel vostro mood, nel vostro background, non preoccupatevi. Passata la trasparenza, poi si ritorna sereni e felici. Sul bosone di X vi ho preparato non solo la storia della scoperta, ma anche le ultime pubblicazioni. Con ultime intendo vedrete cose che sono state pubblicate a marzo e aprile del 2021. In alcuni casi sono solo state presentate a delle conferenze e la policy ci dice che se noi abbiamo qualcosa che è presentata a una conferenza, ecco magari che è pubblicata sull'Archive, che è il servizio pubblico elettronico di pubblicazioni, si può presentare. Anche se magari la pubblicazione sulla rivista rinomata al Physics Letter può essere che non sia ancora disponibile. Poi parleremo degli acceleratori, delle HC e super cake B, dell'ultima misura sul momento magnetico anomalo del muone che è stata discussa lungamente qualche settimana fa perché era veramente un risultato atteso da tutta la comunità scientifica e un'introduzione alle componenti oscure dell'universo. Dunque io avevo previsto anche un collegamento con il CERN alle ore 22 con la sala controllo di un esperimento in particolare di CMS, visto che sono stato Shift Leader anch'io, quindi insomma era sensibile lo Shift Leader di adesso che mi ha dato la disponibilità. Allora dicevo, avevo previsto questo collegamento con il CERN, c'è un piccolo problema che è LHC e parte a maggio, però in questo momento stanno facendo il tuning dell'esperimento, fanno delle prese dati con i raggi cosmici per vedere che l'acquisizione funzioni bene. Quindi avevo queste due persone, Burga Billin e Sorina Popescu, che erano Shift Leader e il Detector Control System, che mi hanno detto, nessun problema, alle 10 ci colleghiamo e facciamo vedere la sala di controllo. Peccato che chi gestisce l'esperimento ha deciso di interrompere prima la presa dati, li ha mandati a casa. Loro gentilmente mi hanno fatto un video in cui fanno vedere come funziona la presa dati, quindi le attività, quando parte la presa dati, i controlli che vengono fatti, un video di 8 minuti. Non so se faremo a tempo a vederlo, ad ogni modo passo anche questo link ad Andrea, così con le slide potrete avere anche questa. Perfetto. Allora, dato che questo avviso me l'hanno dato all'ultimo momento, allora io ho contattato la persona che è in turno a Keck in Giappone in questo momento. Non gli avevo chiesto inizialmente di fare questa presentazione, perché in Giappone sono più 7 ore, quindi alle 10 saranno le 5 di notte. In aggiunta, a Keck, nell'esperimento Bell 2, stanno prendendo dati con fascio in una situazione in cui stanno spingendo sull'intensità della macchina. Quindi potrebbero esserci dei problemi. Allora Martin, gli ho dato il link, mi ha detto io mi provo a collegare, però non ti garantisco, se ci sono problemi di sicurezza della macchina, lui è lo shift leader di questo momento, e non ci sarà, come vedete nella foto, tutta questa pletora di persone. Questa era la situazione pre-Covid delle control room. Adesso abbiamo una persona che è in turno, e altre due sono connesse in remoto, e controllano i dati in remoto, ognuno a casa propria, e un terzo è nella sala di controllo della macchina, quindi tutti sparsi in giro per non rischiare. Comunque vediamo se si collega bene, se no, tutto c'è. Allora partiamo con un'introduzione sull'atomo, cose che sono conosciute, anche insegnate nel liceo. Questo è il manoscritto, la pubblicazione di Mendeleev, fatta nel 1869, in questa rivista di chimica, dove Mendeleev aveva classificato tutti gli elementi che allora erano conosciuti, ed erano ordinati in base al peso atomico e alle proprietà chimiche. Come si vede da questo grafico, da questa tabella, ci sono dei salti in base al peso atomico che sono abbastanza regolari, quindi quando i salti sono un po' troppo grandi, Mendeleev ha messo un punto interrogativo in cui diceva ma forse qua c'è un elemento con un peso atomico 68, poi forse uno con peso atomico 70, perché poi noi passiamo al 75 che è l'arsenico e così via. Quelli appunto che vedete indicati con 68 e 70 sono quelli che poi sono stati scoperti essere il Gallio e il Germanio. Quindi la potenza di questa prima tabella era che da una struttura organizzativa in base a delle simmetrie sono stati previsti due elementi che poi sono stati effettivamente scoperti, la tabella è del 69 e Germanio e Gallio sono stati scoperti nel 75, 1875 e 1886. Va bene, poi la storia la sappiamo, sappiamo che in seguito si è capito che il parametro corretto non era il peso atomico, ma il numero atomico, cioè dato dal numero di protoni. Questa quindi è la tabella che viene utilizzata adesso e con lo sviluppo della meccanica quantistica si è capito che ogni riga corrispondesse agli orbitali con diversi livelli energetici che venivano completati con il riempimento dei diversi possibili numeri quantici. Ora, come può essere compresa la struttura dell'atomo? Quindi, insomma, abbiamo capito un po' di più dopo un po' di tempo come era fatto l'atomo e ci si chiedeva che dimensioni avesse il nucleo, ad esempio. Allora, una struttura, se è fatta con delle palline dense oppure una distribuzione nello spazio uniforme, la si può fare con un metodo che potremmo chiamare di Tex-Willer, cioè se uno ha due sacchi, uno con delle pepite e uno con della sabbia, ne può scegliere uno e deve scegliere senza toccarli. Quello che può fare è sparare delle pallottole dove c'è la sabbia e le pallottole trasverseranno e andranno dritte dove ci sono delle pepite e invece verranno deviate. Allora, questo concetto di fatto è quello che è stato utilizzato da Rutherford in cui ha fatto incidere dei nuclei di particelle alfa emessi da una sorgente radioattiva su un foglio d'oro. Si aspettava in pratica di sparare dei proiettili su un foglio sottilissimo e si aspettava che questi proiettili andassero dritti. Invece si è trovato con delle riflessioni che andavano sino a 90 gradi. Questo avviene sostanzialmente perché la carica del protone all'interno degli atomi non è distribuita uniformemente ma è concentrata in un punto. Allora è chiaro che se è molto concentrata le particelle alfa, cariche positive, possono arrivare anche a una piccola distanza rispetto a questa carica e per l'effetto alla forza di Coulomb con una piccola distanza ottengono una forza di deflessione importante. Beh, allora, dopo che sono stati studiati gli atomi con metodi sempre più sofisticati, passiamo alla scoperta delle particelle elementari che è iniziata con lo studio dei raggi cosmici che si manifestano come radiazioni ionizzanti. Allora, il fatto che ci fossero dei raggi ionizzanti nell'atmosfera è stata ipotizzata quando si sono osservati gli elettroscopi che si scaricavano più velocemente in vicinanza di sorgenti radioattive, ma si scaricavano anche se venivano accuratamente schermati. Allora si è cominciato a pensare ma forse c'è una sorta di sorgente radioattiva naturale nell'aria che non si riesce a fermare. S, il che vediamo in questa foto nel suo pallone aerostatico, ha dimostrato che vi era un'origine cosmica mediante l'utilizzo di un pallone aerostatico in cui ha portato uno di questi elettroscopi su in altura. Allora, con questo studio di raggi cosmici, qua vedete in figura cos'è un raggio cosmico, sostanzialmente, principalmente sono dei protoni che interagiscono nell'atmosfera e creano una catena di diverse particelle, poi alla fine sopravvivono, arrivano in terra soprattutto dei neutrini e dei buoni. Beh, chiaramente sono state scoperte alcune particelle utilizzando i raggi cosmici, dopodiché si è cercato di creare degli acceleratori per poter fare degli studi ancora più accurati. L'acceleratore di particelle, il primo vero e proprio, è stato creato da Robert Van der Graaf. Credo in quasi tutte le università c'è una macchina di Van der Graaf, un generatore che serve per creare elevate tensioni. Robert nel 1929 ha creato un primo prototipo e poi è riuscito ad arrivare fino a una tensione di 1 megavolt e attualmente ci sono acceleratori basati sui generatori di Van der Graaf che vanno con tensioni da 1 a 25 megavolt. Perché serviva un'alta tensione? Perché l'accelerazione di una particella è data dalla forza Q per E. Allora, per avere un alto campo elettrico si pensava a cosa facciamo? Creiamo un alto potenziale e riusciamo ad accelerare le particelle, in questo caso degli elettroni che si ritrovano con un'alta tensione. Ovviamente ha un limite questa situazione che quando si creano degli alti... Tanto non si possono creare più di tanto grandi tensioni, si arriva a 25 megavolt al giorno d'oggi con queste macchine e basta. Allora, c'è stata un'idea molto interessante proposta da Rolf Widerow nella tesi del 98. Una cosa interessante è che Widerow propose questa soluzione nella tesi e poi il suo prototipo non funzionava e gli accademici non l'hanno considerato e è andato a lavorare in industria e poi dopo è stato riconsiderato perché ha sviluppato molti degli acceleratori attuali. È un chiaro esempio che a volte uno ha delle buone idee ma non riesce subito a farle andare avanti, però non si è scoraggiato. Come Einstein ha scritto la sua teoria nell'ufficio brevetti, Widerow ha sviluppato gli acceleratori di fuori della comunità scientifica e adesso ne utilizziamo tutti. La sua idea era quella di, anziché usare dei campi unici, enormi, di invertire la polarità man mano che le particelle entrano dentro delle cavità. In pratica gli si danno delle piccole spinte Q per E e poi di nuovo Q per E e Q per E. Ma ovviamente perché la cosa funzioni bene la particella deve entrare nella cavità nel momento giusto. Quindi servono delle radiofrequenze che invertano il campo. E poi dato che stai accelerando, come si vede in questo disegno, anche la lunghezza delle cavità aumenta man mano che ci si mette più distanti. I limiti che c'erano a quel tempo era che non si riuscevano ad avere radiofrequenze ad elevata potenza. Cioè se si vogliono accelerare non una particella ma un pacchetto serviva radiofrequenza ad alta potenza che sono stati sviluppati solo più avanti. Poi nel 1931 invece Ernest Lawrence costruisce la prima macchina acceleratrice circolare con più o meno la stessa idea. Vedete che c'è un campo alternato a seconda che la particella passa in un verso o nell'altro e l'idea è di fargli fare più strada in modo circolare senza dover creare degli acceleratori lunghissimi. Questa è la storia di allora. Adesso come sapete al CERN abbiamo costruito sempre basato sulle radiofrequenze un acceleratore da 27 chilometri ma insomma c'è voluto un po' di tempo. Se abbiamo capito come funzionano gli acceleratori il problema è come osservare le particelle. All'inizio Charles Wilson nel 1911 ha creato quelle che sono camere a nebbia allora con queste tecniche in particolare con le camere a bolle è stata creata la stampa che vedete alle mie spalle che è una fotografia di tracce lasciate da delle particelle ed era il metodo di allora. Nella camera a nebbia veniva reso satura di un vapore d'acqua questa ampolla che vedete dopodiché veniva messa in una condizione di saturazione del vapore acqueo poi la pompa toglieva pressione velocemente e il vapore acqueo diventava sovrassaturo a questo punto quando una particella attraversa l'ampolla sovrassatura di molecole d'aria si creano delle piccole goccioline in un percorso che vengono fotografate la figura che vedete qua è un po' poverina come risoluzione ma è proprio una foto fatta da Wilson nel 1911 poi si è evoluta questa tecnica nelle camere a bolle dove si utilizzava un liquido surriscaldato e compresso mantenuto vicino al punto di ebollizione il passaggio delle particelle provocava delle piccole bollicine che davano dei tratti e potevano essere fotografate con una risoluzione maggiore quindi questo era il risultato della foto e anche di quella che vedete alle mie spalle allora con i nuovi acceleratori e i nuovi rivelatori sono state scoperte molte particelle se ne conoscevano 200 nel 1950 sono state chiamate con i nomi delle lettere dell'alfabeto greco e romano non stiamo a vederli tutti stiamo però a vedere che nel 1961 è avvenuto quello che è avvenuto un po' per lato ma all'inizio cioè si è capito che certi decadimenti potevano avvenire e altri no allora è stata attribuita una caratteristica alle particelle che si chiamava stranezza che poteva essere 0, meno 1, meno 2 e qua li vedete classificati a seconda se hanno spin 0 o spin un mezzo e se hanno carica 0, 1, 2 o a secondo di questa stranezza che non si sapeva bene cosa fosse si sapeva che era una proprietà adesso diremmo un numero quantico dalla questa classificazione un po' come nella tabella di Mendeleev risultava, vedete il pallino giallo che mancasse un elemento che era stato chiamato omega meno e molto dopo nel 1994 è stata effettivamente trovata ora senza andare oltre in questa lunga storia adesso sappiamo che questa proprietà chiamata stranezza era semplicemente dovuta al fatto che queste particelle che erano state scoperte erano composti da dei quark cioè alcune come i mesoni che hanno spin 0 erano coppie quark anti-quark altre con spin un mezzo o tre mezzo chiamati barioni quindi uno spin intero o uno spin semidispari a seconda che siamo con mesoni o barioni e beh, se hanno un quark S sono particelle strane questa caratteristica di stranezza era dovuta alla presenza di un quark chiamato quark strange e l'omega che mancava era con tre quark S che era anche la più pesante quindi mancava perché era più difficile da essere creata ecco qua vedete i quark che sono stati scoperti dopo l'updown LS man mano che si è andata avanti con l'energia degli acceleratori sono stati trovati i quark charm coppie charm anti-charm cioè se immaginate il protone che è circa un GEV un charm anti-charm è sui tre GEV il beauty è cinque GEV e per il top sono serviti centosettanta GEV per riuscire ad arrivare quindi centosettanta volte la massa del protone vi chiarisce perché ci è voluto un po' di tempo cioè è servito arrivare a quelle energie per riuscire a produrli ora sappiamo che i quark sono sei ovviamente ci sono anche sei anti-quark che possono assumere tre stati quantici di colore o meglio i tre stati quantici di colore poi possono essere combinati tra di loro e sono chiamati mesoni o barioni come ho detto prima secondo dello spin oltre alla carica elettrica trasportano un nuovo tipo di carica che è detta carica di colore le particelle si possono combinare in modo tale che questa carica di colore si annulla cioè il quark ha una carica di colore ma la particella non può avere carica di colore poi capiremo perché perché se quando parliamo di forze carica di colore significa grande forza se sono distanti quindi quando uno ha una carica di colore i quark si avvicinano fino a che non scompare questa carica di colore una cosa importante è che quando io qua ho disegnato un rosso un blu e un verde ma i colori sono dei simboli in realtà sono dei numeri quantici a cui noi abbiamo dato il nome colore non è che ci siano dei quark veramente rossi e verdi è un modo che abbiamo per rappresentare un numero quantico voi vi potreste chiedere ma perché due o tre e non potremmo avere delle particelle con ad esempio cinque quark che si chiamano penta quark perché si può combinare è possibile combinare cinque quark in modo che la carica complessiva sia intera che è una caratteristica che devono avere le particelle e che la carica di colore sia nulla cos'è che me lo impedisce? Niente me lo impedisce ma non si sono mai trovate fino a quando nel 2019 sono stati scoperti queste tre particelle chiamate PC 4.312 4.440 e 4.457 dall'esperimento LHCV e ci si è posto il dubbio se fossero dei penta quark perché di fatto per come sono fatti per la massa che hanno sembra che siano costituiti da cinque quark ciò che non è ancora stato chiarito perché non è per niente semplice di capirlo distinguerlo e se sono effettivamente cinque quark inglobati insieme o se di fatto si tratta di una sorta di molecole cioè un mesone ed un barione che sono molto vicini tra di loro e alla fine assomigliano a un penta quark ma sono soltanto un mesone e un barione molto vicini e qua forse ci vorrà un po' di tempo per capirlo meglio perché insomma ho visto altri articoli ma fino adesso non ne ho ancora visto nessuno conclusivo beh oltre ai quark ci sono anche dei leptoni dal greco leptos vuol dire leggero e infatti la carica cioè la carica è la stessa ma la massa di questi leptoni è molto più bassa rispetto a quella dei quark associato ad ogni elettrone c'è anche un neutrino che è una particella neutra e come per i quark ne avevamo sei anche i leptoni sono sei sono un elettrone un muone un tau sono particelle simili tra di loro semplicemente più pesanti di massa nel caso del muone arriviamo mi sembra a 105 mev e nel caso dell'elettrone siamo a mezzo a questo punto ci possiamo chiedere possiamo dire ovviamente abbiamo i leptoni e gli antileptoni quindi sono sei più sei anche loro questi sono tutti i leptoni che abbiamo scoperto e che abbiamo osservato e possiamo chiederci se è finita qua o se in futuro potranno esserci una quarta coppia di leptoni una quarta coppia di quark allora chiamiamo famiglia una coppia fatto da elettrone e neutrino elettronico e chiediamoci ci sono altre famiglie allora prima di rispondere devo dire che dobbiamo chiarire una cosa noi facciamo delle analisi andando ad osservare le particelle ma la maggior parte delle particelle anzi quasi tutte le particelle decadono allora come facciamo a ricostruire una particella che è decaduta lo facciamo andando ad analizzare i suoi prodotti di decadimento quindi immaginate qua c'è una pallina verde che è una particella che è decaduta in due palline in due particelle con velocità v1 e v2 queste particelle sono di tipo relativistico cioè hanno una velocità elevata quindi con una componente di energia che ha una corrispondente di massa importante allora non dovete pensare che se una particella ha una massa m decade in due particelle le due avranno una massa pari alla metà è uguale perché una buona dose della massa della particella iniziale va in energia cinetica allora quando io faccio il percorso inverso non è che devo sommare la massa delle due particelle che vedo ma devo fare un calcolo di quella che si chiama la massa invariante e la formula è messa in questa slide cioè dall'energia delle due particelle che sono decadute e dalla velocità quindi dai loro impulsi io ricavo la massa della particella originaria dopodiché faccio una distribuzione che ha questa forma campana che ha una certa larghezza e questa è il picco della particella che è decaduta che avrà una massa che è pari al centro del picco e una larghezza che si chiama gamma che è la larghezza alla semialtezza di questa campana questa larghezza gamma è in pratica anche mi dà l'informazione sul tempo di vita della particella tau è h tagliato su gamma e quindi abbiamo che gamma grandi ha una tau piccolo e viceversa insomma allora questa piccola introduzione ve l'ho dovuta fare perché quando ci chiediamo se ci sono altre famiglie di quark e di leptoni che è stata una domanda che ovviamente ci si è posta nel momento in cui si è completato il quadro cioè abbiamo classificato tutte le particelle con i quark e con i leptoni abbiamo scoperto quark e leptoni sempre più pesanti a un certo punto non si trovava più nulla anche se si saliva in energia allora ci si è chiesti quante sono sono effettivamente solo tre e una misura che ha fatto parecchio scalpor è stata effettuata dall'esperimento LEP cioè dagli esperimenti di LEP che era l'acceleratore che si trovava nella caverna di LHC semplicemente facevano circolare più e meno e producevano bosoni vettori Z0 allora dalla distribuzione della Z0 che può decadere in coppie di quark coppie di lettoni quindi più e meno più o meno eccetera o coppie di neutrini noi riusciamo a capire quante famiglie ci sono perché la larghezza di questa campana è data dai vari contributi cioè quando la Z decade in coppie di quark quando decade e nel 70% dei casi e questo è il caso quando cade in coppie di lettoni e quando decade in coppie di neutrini se io anziché avere tre neutrini neo4 dato che i neutrini sono molto leggeri un tempo all'epoca di LEP si pensava massa zero adesso sappiamo che non hanno più massa zero però immaginiamo che tutti i neutrini siano molto leggeri e che la Z possa comunque decadere in un neutrino beh allora se i neutrini sono quattro la larghezza della Z che nel modello standard è comunque prevista mi deve cambiare e quindi la componente adronica cioè la campana della larghezza adronica che vedete nel picco risulterà diversa a seconda che io abbia tre quattro o due famiglie di neutrini e la diversità è talmente evidente che quando faccio un fit sul numero di famiglie di neutrini il risultato è che il numero di famiglie di neutrini cioè di famiglie di leptoni e quindi anche di quark sono correlati e tre con un'elevata precisione non ci sono dubbi che ci sono solo tre famiglie di neutrini di leptoni e di quark allora questa che all'epoca ovviamente era una verità all'epoca intendo 1990 considerata assolutamente assodata adesso lo è un pochettino di meno perché una volta che abbiamo scoperto che i neutrini hanno massa uno potrebbe anche immaginarsi una quarta famiglia di coppie elettroniche possiamo chiamarlo lo stau con associato il neutrino tau stau e se entrambi hanno una massa maggiore della massa della z0 la z non può decadere in questo tipo di neutrino e quindi questo effetto non si vedrebbe cioè insomma il risultato è vero solo se tutti i nuovi possibili neutrini hanno una massa inferiore a quella della z0 quindi diciamo prendete tutti i risultati che vengono ottenuti dalla fisica con le molle è vero a meno che non ci sia uno scenario in cui le cose cambino e lo scenario potrebbe essere questo altre famiglie in cui tutte le particelle compreso i nuovi neutrini sono di massa molto maggiore di quello che ci aspettiamo passiamo velocemente alle forze credo che siamo ci avviciniamo alle 10 quindi tra poco potremo vedere se per caso Martin è connesso beh come sapete ci sono quattro tipi di forze che agiscono tra le particelle la forza elettromagnetica gravitazionale e la debole quelle che noi consideriamo forze di fatto sono dovute a uno scambio di mediatori di forze questo si è capito poi insomma dopo un certo tempo quando si è cominciato a fare una descrizione relativistica quantistica allora diciamo si è dovute introdurre un quanto che nel caso dell'elettromagnetismo e il fotone nel caso della particella forte sono i gluoni nel caso della forza debole sono i bosoni vettore w e z e poi si ipotizza che ci sia anche un quanto della gravità che è il gravitone una cosa importante ha fatto molto scappore recentemente la scoperta delle onde gravitazionali sono state trovate le onde che ci si aspettava effettivamente esistessero ma l'onda non è il gravitone quindi resta comunque un'ipotesi che esista anche un quanto per la forza gravitazionale beh nel momento in cui si sono osservati i decadimenti del protone scusate del neutrone magari si è un lapsus freudiano si sarebbe voluto osservare il decadimento del protone il decadimento del neutrone il decadimento del bu cioè tutti i decadimenti che sono dovuti alla forza nucleare debole è stata creata una descrizione da fermi di tipo puntuale dove c'è la particella che decade i prodotti del decadimento e nel vertice c'è una costante che è chiamata costante di fermi che indica l'accoppiamento tra il muone e queste altre particelle e con questa descrizione fermi ha spiegato i decadimenti ha permesso di calcolare come dovevano avvenire ma analogamente alla forza elettromagnetica poi con la descrizione quanto relativistica il punto è diventato un diagramma di Feynman dove c'è uno scambio del mediatore della forza nel caso elettromagnetico vedete c'è lo scambio di un fotone e nel caso elettrodebole c'è uno scambio di un bosone vettore e nel 67 Glashow, Weinberg e Salam proposero questa teoria di interazione elettromagnetica debole e elettromagnetica unificata chiamata elettrodebole in cui vi erano quattro mediatori di questa teoria elettrodebole con fotone W più W meno e Z il modello Glashow, Weinberg e Salam prevedeva l'esistenza non solo di correnti deboli cariche ma anche di correnti deboli neutre che sarebbe lo Z0 ma lo Z0 non era mai stato osservato fino al 1983 dove gli esperimenti UA1 e UA2 situati nei punti di interazione dell'acceleratore SPS del CERN sono riusciti a produrre anche lo Z0 questa è stata una scoperta fondamentale perché di nuovo una nuova teoria che richiede una validazione che funzionava bene ma insomma se prevede qualcosa di nuovo e viene scoperta questo è un punto di forza della teoria e si è arrivati quindi a confermarla e ha permesso di ottenere a Van der Mar e a Carlo Rubi al Nobel nel 94 era l'epoca in cui ero all'Università di Genova i quark i quark come abbiamo detto hanno una carica di nuovo tipo chiamato colore e nel caso dei quark questo mediatore è il gluone che ha una caratteristica si chiama gluone perché incolla i quark tra loro ha una caratteristica che è una forza che aumenta quando aumenta la distanza tra le particelle dottotte di carica aumenta in modo talmente tanto che quando due quark si allontanano più di tanto di fatto è come se ci fosse una molla che acquisisce energia si spezza e questa energia è sufficiente per creare coppie quark anti quark per questo motivo i quark non possono essere mai trovati isolati perché insomma sarebbe una carica di colore non nulla e di fatto si creano sempre delle coppie che permettono di creare sempre dei mesoni o dei barioni alla fine se cerco di isolarli per farlo creo dell'energia tale per cui si creano delle coppie e alla fine non avrò mai i quark singoli questa è la spiegazione un modo con cui si vedono i quark è quello di osservare i getti cioè il getto è semplicemente dato che abbiamo detto una Z0 può decadere in una coppia quark anti quark i due quark anti quark partono si allontanano e poi vengono create delle altre coppie quark anti quark ma la direzione iniziale dei due quark resta quella che è opposta se la particella Z è creata a riposo e invece se ha un boost se ha una spinta i due jet non saranno opposti e si vedono bene poi un quark può emettere un gluone energetico e di nuovo c'è un getto di particelle e il fatto che siano raggruppati ti dà proprio l'idea che era inizialmente un quark o un gluone che allontanandosi ha creato questi pop up ha mostrato questa creazione di coppie quark anti quark che alla fine io trovo tante particelle tutte raggruppate nella direzione iniziale dei quark abbiamo parlato di tutte le forze tranne quella gravitazionale che può sembrare una cosa strana non rientra neanche nei Monte Carli che abbiamo cioè non c'è la simulazione della forza gravitazionale che agisce sulle particelle e il motivo è che se noi parliamo a livello astronomico di grandi masse la forza gravitazionale è potentissima ma se parliamo di particelle che hanno quando parliamo di elettrovolt in termini di grammi siamo a ordini di grandezza dieci alla meno decine quindi è chiaro che l'effetto sul tragitto sul percorso delle particelle è assolutamente trascurabile nel caso di collisori allora passiamo sono le 22 prima di finire andando sul modello standard possiamo vedere se per caso è comparso Martin però per farlo credo che dovremmo dare un'occhiata posso momentaneamente interrompere ok per i partecipanti Martin Besner è dell'università dell'Hawaii quindi parlerai inglese abbiate pazienza hello hi Martin hi Martin we are we are here waiting for you is it possible to have a short view of the counting room can you share your video hello ciao martin you are alone completely alone yes so because of pandemic we used to have two control shifters here at the desk because of the control pandemic we now have one here and two remote so we are in contact with them via the internet and we also have one more shifter who's connected here via this remote connection so we are all physically separated but we have four people active on shift okay what is the condition of the current condition of the beam so you have a later overview and two beams and you can look at how the beam current change over time and some more diagnostics here we are in collision yes we currently have collisions here event displays from individual collisions where we see typically a few particles flying out sometimes more sometimes just two and yeah we like to analyze these events and ultimately yes I'm monitoring of the detector status but everything is in a healthy state probably some of the audience don't speak english so time to time I try to translate what you are saying okay sure I don't speak italian va bene ad ogni modo ah perfetto standing here I don't understand you anymore but I can show you a bit of the cut here so this is the actual detector behind the shielding I hope you can understand me it's behind the shielding and it's running right now and then most of the data comes here and then this is right next to the control room okay thanks Martin see it's better I translate at the end you can okay okay I hope you could understand me yes thank you very much most of the people was able to fully understand at the end I translated for the other people what you said okay I think you need to go back for your shift Martin is the only one that is responsible of the security of the detector we are in collision we are a gas high voltage everything is on so it's better if you continue your shift thank you very much thank you Martin ok per le persone ciao Martin ci diceva Martin che normalmente ci sono diverse persone che si occupano della presa dati adesso per la causa del covid c'è una persona gli altri fanno i controlli da remoto come vi avevo anticipato all'inizio siamo attualmente in presa dati e ci faceva vedere le collisioni che stavano avvenendo e venivano mostrate con questo event display dove c'erano le tracce queste non erano simulazioni erano event display dei veri eventi di collisione e poi allora a differenza di LHC che ha una sala di controllo in superficie e l'esperimento a 100 metri l'esperimento in Giappone a Tsukuba si trova a 30 metri di profondità e la sala di controllo è messa a circa 20 metri di profondità quindi è stato sufficiente aprire una finestra e si è visto il rivelatore quello che vi ha fatto vedere a destra con dei muri di shielding di protezione naturalmente la cosa è da tenere conto che un conto è avere interazioni protone e protone o ione e ione in questo caso sono interazioni e più e meno quindi il livello di radiazione che abbiamo in questo esperimento è inferiore e possiamo anche permetterci in tutta sicurezza questa sala di controllo noi abbiamo comunque l'accesso con il badge quindi se ci sono dei problemi vengono immediatamente individuati devo dire che io lavoro in esperimenti con acceleratori dal 1993 e non ho mai avuto una singola rivelazione nel badge che superasse la soglia in genere è zero che vuol dire compatibile con la radioattività ambientale sostanzialmente se uno rispetta tutte le regole i rischi sono nulli direi riparto con la condivisione dello schermo ok spero vi siate un po' riposati perché questa era la parte più facile che abbiamo visto allora una volta che abbiamo capito di cosa è fatta la materia quark e leptoni quanti sono abbiamo una teoria che ce la descrive e a questo punto possiamo farne una descrizione completa e la descrizione completa è quella che viene chiamata modello standard in cui gli elementi su cui agisce la forza sono questi doppietti di quark e di leptoni e la forza è data da dei mediatori il modello standard sostanzialmente è il modello elettrodebole in cui in aggiunta si ipotizza cosa che poi è risultata essere assolutamente vera che i mediatori deboli sono esattamente gli stessi sia per i elettroniche per i quark quindi insomma avremo un quark charm che può decadere che sta nella parte alta del doppietto e può decadere in un quark strange che sta nella parte bassa mediante l'emissione di un bosone vettore W esattamente come capita quando si ha un decadimento del muone in un elettrone quindi quando si ha un passaggio dalla parte alta alla parte bassa c'è un muone che decade in elettrone antineutrino elettronico e muone e neutrino muonico ci sono appunto questi diagrammi che collegano le particelle tramite il bosone vettori e i bosoni vettori sono gli stessi per i quark e per gli leptoni questo è quello che sta alla base e come viene descritta la teoria di solito ci si ferma nel dire beh è una teoria in cui la QCD la forza forte è basata sul gruppo di simmetria SU3 colore e l'elettrodinamica quantistica è basata sui gruppi di simmetria SU2 per 1 lasciamo perdere il significato dei pedici ma insomma è basata su questi gruppi di simmetria e che la sua bellezza sta nella capacità di descrivere tutta la materia e tutte le forze dell'universo che quantomeno quelle che materie e forze che sono conosciute ad oggi tranne la gravità allora questa slide che di solito viene presentata così com'è per chi diciamo non ha particolari conoscenze io mi sono permesso di cercarvi di darvi un'idea di che cos'è una simmetria cioè un gruppo di simmetria e perché viene utilizzato nel descrivere le forze allora innanzitutto chi lo avesse studiato non ha nessun problema ma chi non l'ha visto forse se ha fatto un po' di chimica sa che vengono utilizzati i gruppi di simmetria anche in chimica non è solo fisica delle particelle comunque un gruppo è un insieme di trasformazioni che vengono rappresentati con delle matrici ad esempio il gruppo U1 è il gruppo di tutti i cambiamenti di fase nel piano complesso ad esempio chi fa elettronica conosce bene i numeri complessi che vengono rappresentati con dei vettori nello spazio reale e immaginario e allora possiamo immaginare un vettore unitario di lunghezza ma che può ruotare nel piano reale complesso quindi qualsiasi trasformazione che ruota il vettore fa parte del gruppo U1 poi un gruppo SU2 è un gruppo invece che è fatto da una matrice come ve l'ho scritta adesso che è una combinazione di tre matrici chiamate di Paoli allora quello che è importante è che ogni gruppo ha dei generatori e di fatto io che possono essere immaginate come le basi del gruppo delle matrici base e io li combino tra di loro e ottengo tutti gli elementi del gruppo è importante saper ricavare quanti generatori ha un gruppo quindi potete immaginare appunto delle matrici di un certo tipo e sapere quali sono gli elementi indipendenti tra di loro allora se consideriamo come vi ho detto dei numeri complessi o in generale una funzione complessa il gruppo U1 prende una funzione complessa e gli cambia la fase allora una teoria l'invarianza per un gruppo significa semplicemente che la teoria è invariante per quel gruppo se le equazioni che la descrivono restano invariante quando si applica uno delle qualsiasi delle trasformazioni che appartengono al gruppo quindi nel caso del gruppo U1 qualsiasi teoria che se cambio di cambio la fase a questa funzione complessa che avrete già capito poi rappresenta la particella ebbene allora è invariante per il gruppo U1 sono interessanti le leggi di invariante delle teoria sono molto interessanti perché c'è un teorema molto conosciuto e molto importante di Amélie M. Notter che dice che per ogni simmetria della lagrangiana che è quella grandezza che descrive una teoria per ogni simmetria corrisponde una quantità conservata allora all'invarianza U1 della lagrangiana dell'elettromagnetismo corrisponde la conservazione della carica elettrica quindi questo è un primo elemento molto importante se io scrivo una teoria e trovo che questa teoria ha una simmetria per certe trasformazioni che possono essere rappresentati con dei gruppi a questa invarianza corrisponde una conservazione ora per chi invece non è tanto pratico delle questioni quanto relativistiche non si spaventi alla fine è soltanto un cambio di rappresentazione di tipo matematico cioè noi magari uno che sta facendo i primi anni di liceo è abituato a ragionare in termini di meccanica classica e quindi è abituato a descrivere una particella o un oggetto in generale come una funzione x di t dove x può essere con il vettore cioè una posizione nello spazio in funzione del tempo e se lo lascia libero e lo lascia cadere nella gravità dovuta alla forza gravitazionale l'equazione del moto è la derivata seconda di x rispetto al tempo che è uguale a g qua supponiamo ad esempio che x sia l'asse verticale e qua è tutto semplice semplice per modo di dire perché poi quando si passa a studiare verso il secondo anno di università la meccanica dei corpi che sono magari non solo più dei punti ma hanno una certa dimensione ci sono gli effetti rotazionali si possono fare degli esercizi anche ben complicati però insomma quando invece parliamo di una particella infinitesima che è sottoposta alle leggi della meccanica quantistica relativistica come forse vi sarà stato anticipato anche in quarta e quinta e superiore la particella diventa descritta da una funzione d'onda che descrive l'ampiezza di appartenenza allo spazio x y z al tempo t e l'equazione del moto della particella diventa una derivata anziché avere delle d abbiamo dei delta ma i delta rappresentano semplicemente una derivata ma rispetto a una variabile quando ho una funzione di più variabile e posso derivare rispetto a una variabile sola considerando come costanti le altre quindi ho delle derivate parziale e qua ad esempio trovate l'equazione del moto di una particella libera dove in realtà ho fatto un certo numero di semplificazioni rispetto all'equazione di Klein-Gordon vi ho messo lo spin che è 0 quindi un'equazione di Klein-Gordon una massa 0 e un'unità c uguale 1 se no avrei dovuto mettere 1 sul c quadro però insomma vedete che sembra non esserci grande differenza tra la descrizione classica e la descrizione quantistica in un caso è una funzione del tempo e nell'altro caso invece è una funzione d'onda che dipende dallo spazio e dal tempo e ci sono delle relazioni rispetto alle derivate di questa funzione allora l'invarianza per un cambio di fase se la legge è invariante per un cambio di fase complessivo cioè io cambio la fase alla funzione d'onda ovunque allora questo abbiamo detto che corrisponde alla conservazione della carica però io ho anche quelli che vengono chiamati invarianze per cambio locale di fase cioè vedete che elevato alla fi l'ho fatta diventare elevato alla fi che dipende dalla posizione e allora non è più detto che la teoria sia invariante sia invariante per un cambio di fase globale sia anche invariante per un cambio di fase locale ad esempio la lagrangiana di Dirac lo si vede bene per un cambio di fase globale è invariante perché ho fi e dall'altra parte il fi segnato che è una una fi complesso coniugato poi c'è anche una gamma ma la fi complessa coniugata e quindi quando io compongo fi con fi complesso coniugato metto è elevato alla fi da una parte è elevato alla fi i meno fi dall'altra e si elidano ma se invece fi dipende da x in questa equazione di Dirac c'è un demu c'è una derivata parziale quindi quando derivo non derivo solo più fi ma derivo anche la fase e allora non è più invariante però posso rendere l'equazione Dirac invariante con l'introduzione di un campo aggiuntivo che a cui assegno una trasformazione che è chiamata trasformazione di gauge quando cambio la fase locale allora imporre che la densità di Lagrangiana di Dirac sia invariante per trasformazioni locali di un certo gruppo di fatto ti fa comparire dei campi aggiuntivi cioè per renderla invariante devo introdurre un campo aggiuntivo e questo è l'aspetto interessante del dichiarare e di chiedere l'invarianza per gruppi cioè il gruppo SU3 è un gruppo che ha otto generatori se rendo invariante per SU3 la Lagrangiana di Dirac devo per forza introdurre otto campi che corrispondono agli otto gluoni che mi servono se la rendo invariante per SU2 locali trasformazioni locali di SU2 alla Lagrangiana devo per forza aggiungere tre campi che sono corrispondenti ai bosoni vettori quali ho chiamati W1 W2 W3 e lo stesso per U1 allora è chiaro qual è il gioco cioè se io ho bisogno di otto gluoni tre bosoni vettori e un fotone rendo la Lagrangiana invariante per SU3 SU2 e mi compaiono tutti i campi che servono allora non so se abbiate capito fino in fondo quello che vi ho spetto sicuramente qualcuno si sarà chiesto ma se il gioco è così ed è finito allora che c'entra il bosone di X e la rottura di simmetria di cui si parla a che serve la rottura di simmetria SU2 per 1 e a che serve il bosone di X allora quello che vi ho detto nella trasparenza precedente è vero se e solo se viene messa a zero la massa dei fermioni e la massa di tutti i bosoni vettori che ho introdotto tutti i bosoni vettori a massa nulla però ahimè questa non è la situazione che ci troviamo a noi piacerebbe avere sì un fotone a massa nulla sì otto gluoni a massa nulla ma i bosoni vettori hanno massa non solo anche i fermioni hanno massa allora io riesco a diciamo far evolvere questa teoria che parte dall'invarianza per i gruppi SU3 SU2 e U1 aggiungendo un doppietto complesso chiamato il doppietto di X che una volta che viene effettuato un meccanismo non vi sto a descrivere qui perché è un passaggio che richiederebbe un po' di tempo ad ogni modo diciamo che si parte da una simmetria per questi gruppi e poi si fanno delle piccole oscillazioni intorno al punto di minimo e quello che capita è che i due doppietti complessi di X diventano un valore reale quindi un singolo campo reale e perdo tre gradi di libertà e poi i tre bosoni senza massa diventano tre bosoni con massa e ho un'acquisizione di tre gradi di libertà alla fine sono riuscito a creare una descrizione che mi fa comparire tutti i bosoni vettori che mi servono ognuno con le masse il campo di X è un campo che puoi interagire con se stesso quindi ha anche una massa lui stesso e l'interazione forse c'è qualcuno che mi sta scrivendo qualcosa però non vedo e vabbè io non ti preoccupare se ci sono domande te le giriamo noi va bene grazie vado avanti allora se noi scriviamo l'equazione del modello standard completamente per esteso sembra essere una teoria estremamente complessa perché insomma per ogni ognuno di questo mu è un indice che va girare da 1 a 4 che sono o meglio da 0 a 3 quindi 0 è il tempo e poi ci sono 1, 2, 3 gli assi ci sono i vari elementi dell'interazione però è possibile semplificarlo esattamente come le equazioni dell'elettromagnetismo che scritte per esteso possono essere un po' complesse e dopodiché però noi introduciamo dei simboli che sono il rotore e la divergenza che sappiamo cos'è la derivata vettoriale d in dx d in dy d in dz per e x e y e z c'è scritto per esteso poi alla fine scrivo che la divergenza di e è uguale a rho su y 0 che la divergenza di b è uguale a 0 insomma chi ha studiato elettromagnetismo sa che magari aveva delle equazioni un po' più complesse ha introdotto dei simboli nuovi che prima non c'erano come la divergenza e ha scritto l'equazione in modo più compatto ed è la coppa c'è la tazza bianca nello stesso modo io posso introdurre questi d dagato che compattano molto la formula degli f mu f mu e alla fine il modello standard riesco a descriverlo con un'equazione molto compatta che sta nella tazza nera ora passiamo velocemente ai risultati quanto tempo resta ci abbiamo una mezz'oretta come sapete non sono più molti gli acceleratori considerando quanto costano non solo costruirli ma anche farli funzionare di fatto al giorno d'oggi abbiamo ce ne sono ancora alcuni in funzione ma di grande dimensioni che in grado di arrivare a elevate energie di fatto c'è LHC che si trova al CERN è un acceleratore di 27 km di cicloroferenza e permette di avere interazioni tra protoni e protoni o ioni e ioni ci sono quattro esperimenti Atlas CMS per un'analisi di dati di tipo generale Alice che intende studiare soprattutto gli ioni pesanti e LHCB che è dedicata allo studio dei quark B-beauty e vedete la posizione nello spazio in blu qua trovate il lago di Ginevra dall'altra parte le montagne quindi insomma si capisce che prende una grande parte di territorio intorno a Ginevra gli esperimenti un colpo d'occhio rapido non possiamo entrare su come sono fatti questo è Atlas che è uno degli esperimenti che viene seguito all'università di Genova da un gruppo di ricercatori qualcuno anche mio compagno di università e compagno di Andrea Atlas ha una caratteristica di avere si chiama toroid all'LHC apparatus di avere il contenimento del campo magnetico di tipo toroidale se vi è mai capitato in mano un trasformatore che non funzionava più e l'avete smanettato un po' sapete che le spire dei trasformatori vengono ricoperte da delle lamelle di ferro perché quando create un campo magnetico poi voi avete bisogno di contenerlo in qualche modo e il modo classico è quello di contenerlo con delle lamine di ferro degli strati di ferro ad Atlas hanno deciso di creare un solenoide un po' più piccolino del solito quello all'interno di due Tesla e poi le linee del campo vengono contenute all'interno di questo toroid cioè girano a cerchi sulla superficie della slide che vedete questo permette di non avere il ferro e il ferro funziona bene per il contenimento del campo magnetico però quando ci passano le particelle di mezzo vengono deviate avviene il fenomeno che si chiama di scattering multiplo il che rende più difficile trovare la traccia delle particelle nel caso invece dell'esperimento CMS abbiamo un unico solenoide cioè un unico avvolgimento a solenoide di tipo compatto si chiama compact human solenoide con campo molto alto a 4 Tesla il che ci dà il vantaggio di avere una forte curvatura vicino al punto di interazione quindi mi permette di avere una ottima risoluzione grazie al rivelatore di microvertice sull'impulso delle tracce se però ci ritroviamo che il rivelatore di vertice non funziona e qua con CMS paghiamo il prezzo di avere queste strati rossi che sono il ferro che serve per il contenimento quindi quello che viene chiamato in stand alone cioè con la ricostruzione solo dovuta ai rivelatori di muoni che sono queste camere color argento intorno agli strati rossi e beh lì abbiamo una minore precisione è anche bene che i due esperimenti abbiano preso strade diverse per vedere risultati diversi poi abbiamo Alice esperimento qua siamo sempre su delle grandi dimensioni 16x16x26 metri e 10.000 tonnellate LHCB che è quello un po' più compatto siamo a 5.600 tonnellate 10 13 e 21 metri va bene e beh poi avveremo anche l'esperimento Super Cake B che è quello che abbiamo visto adesso Martin era in fuso orario giapponese a più sette ore quindi ci ha fatto la sua spiegazione alle 5 di mattina l'esperimento si trova a Tsukuba che è una città a circa 90 km da Tokyo l'acceleratore fa collidere elettroni e positroni a 3 km di circonferenza ed ha un unico punto di interazione dove è posizionato l'esperimento Bell 2 la diversità di Keck di Super Cake B rispetto a LHC e che chiaramente produce eventi ad energia più bassa qua siamo a 5 Gev circa e ad LHC siamo a 13 Gev ma in questo caso si punta sulla sull'intensità cioè avere dei pacchetti di più e meno ad altissima intensità e ovviamente anche alla pulizia perché in LHC facciamo scontrare protoni con protoni che non sono particelle individuali quelli che si scontrano sono i componenti dei protoni quindi quark con quark gluoni con gluoni e alla fine possiamo produrre tantissimi eventi ma avremo un fondo importante da eliminare insomma due strategie diverse in un caso il tentativo di trovare nuova fisica producendolo direttamente ad alti energie e qua invece fare degli eventi molto puliti fare delle misure ad altissima precisione e trovare delle discrepanze rispetto alle previsioni del modello standard anche se una particella non viene creata libera però ci possono avere degli effetti quantistici dove in un'interazione c'è il contributo per emissione radioattiva vedremo più avanti questo fenomeno e questo è l'esperimento che ci è stato mostrato dalla finestra che è decisamente più compatto degli altri 1.400 tonnellate un solenoide da 1.5 tesla perché con energie più basse abbiamo degli eventi più contenuti semplicemente qua avremo la frequenza di collisioni che sarà importante da gestire più avanti forse vi ritroverete un elemento importante che è la luminosità raccolta che sostanzialmente è il numero di eventi che sono stati prodotti per unità di tempo e la luminosità integrata da un esperimento che è in pratica il numero di eventi osservati con un fattore costante che è la sezione d'urto e l'efficienza di ricostruzione quindi quando vedrete dei plot che riportano la luminosità integrata di fatto questa luminosità integrata vi dice quanti eventi sono stati osservati nell'interazione qua avete la formula della luminosità che vi dice più frequenza avete di collisione più elettroni e positroni più particelle che collidono avete più collidono in un'area ristretta più avete elevata luminosità ora LHC è partito all'inizio nel 2009 con un fascio circolante a soli 900 GeV e ci ha messo un po' di tempo per crescere in energia ha dovuto sistemare gli elementi dell'acceleratore ed è arrivato nell'arco di una decina di anni meno insomma in arco di sei anni nel 2015 ai 13 TeV attuali dopo quando si sono raggiunti i 13 TeV si è cercato di crescere in luminosità cioè avere più pacchetti di protoni che si scontrano con una frequenza maggiore e alla fine si è collezionata una luminosità integrata che come vi dicevo è la capacità di aver prodotto una grande quantità di eventi che è cresciuta passando diciamo da 4 a 68 quindi insomma parliamo di un fattore 15 in più dal 2015 al 2018 che ovviamente non si spiega solo con il tempo perché dal 15 a 16 non c'è una crescita lineare ma c'è stata una crescita esponenziale che non può andare all'infinito perché poi quando si arriva alla massima luminosità istantanea poi la crescita diventa solo più lineare in funzione del tempo allora inizialmente sono state ricostruite queste particelle che sono state scoperte nel 64 il K short la lambda il James I un po' più avanti è stata scoperta il pi zero l'eta vedete sono particelle che decadono il K il lambda decade in un protone in un pi quindi uno ricostruisce il pi ricostruisce il protone e poi calcola la massa invariante e trova il picco dato che è una particella che conosce bene queste particelle inizialmente sono servite per calibrare il rivelatore calibrare il Monte Carlo vedere che si trovassero i valori conosciuti con le risoluzioni attese beh dopodiché sono state fatte un po' di misure nuove interessanti ma la misura più interessante è stata la scoperta dell'X qua vedete eravamo ancora a 7 8 Tev come è comparso un po' alla volta questo picco rosso che rappresenta l'X allora vedete innanzitutto che sembra non essere l'unico picco ne abbiamo anche uno azzurro prima e uno azzurro dopo e questo vi fa capire che per scoprire una nuova particella non vi basta vedere di avere un picco dovete anche conoscere il fondo atteso quello blu è il fondo dovuto a coppie di Z e a Z associate ad un fotone quello più basso allora una volta che voi avete capito il vostro fondo vi aspettate quello che dovrebbe succedere senza presenza di nuove particelle e poi disegnate in rosso quello che vi aspettate se esiste l'X all'inizio non si vedeva quasi niente ma dopo aver raccolto 5 fento barinversi a 7 teb e 19 fento barinversi a 8 teb si è arrivati a una risoluzione che è pari a 5 deviazioni standard quindi una probabilità bassissima che si possa trattare di una fluttuazione statistica e in effetti poi ha portato anche a dei premi Nobel per chi aveva predetto l'esistenza dell'X allora là vi ho fatto vedere il plot come è risultato quando è stato pubblicato nel 2012 qua vedete delle pubblicazioni recentissime che sono state la prima X in due fotoni già pubblicata 12 marzo 2021 e quella del X in coppie di ZZ l'8 marzo del 2021 è stata presentata delle conferenze ma non è ancora riuscita l'articolo o qualche volta vi do dei risultati di CMS qualche volta di Atlas è stato in base un po' a quanto facevo prima a recuperare i plot comunque sia appunto sono recentissimi vedete che il plot sull'X in ZZ che era quello che abbiamo visto prima è ancora più netto quindi siamo arrivate oltre i 10 saremo sui 10 sigma quando andiamo oltre i 5 sigma l'articolo non lo riportava neanche più la significanza perché poi uno inizia a studiare altre cose una volta che è sicura che la particella c'è e invece l'X in gamma gamma sembra in due fotoni sembra meno chiaro meno netto ma se uno se trae il fondo si vede che il picco è evidente e anche qua siamo ben oltre i 5 sigma di significatività una volta che una particella è stata scoperta non è che la storia è finita dopodiché la vogliamo anche caratterizzare cioè capire se effettivamente ha le proprietà che ci aspettiamo ad esempio ci aspettiamo che l'X decada anche in due muoni ma la probabilità che decada in due muoni è molto più bassa perché l'interazione tra l'X e i fermioni è proporzionale alla massa dei fermioni più i fermioni sia la massa dei fermioni che la massa dei bosoni quindi quando si va verso particelle leggere ha un'interazione minore e quindi ci aspettiamo molti meno eventi e in effetti abbiamo delle pubblicazioni anche qua molto recenti con tutta la statistica disponibile fino al 2018 forse non vi ho detto l'HC si è fermata si è fermata nel 2019 e nel 2020 per fare degli aggiornamenti e quindi tutta la statistica vuol dire tutta quella che è stata raccolta fino al 2018 abbiamo una pubblicazione di Atlas che ci dà una significatività di 2,0 sigma e una di CMS 3 sigma il valore atteso in entrambi i casi credo che sia 2 sigma e mezzo il che significa che non abbiamo ancora abbastanza statistica per vedere l'X anche in fermioni leggeri come i muoni una cosa importante invece è che è importante dimostrare che c'è effettivamente questa relazione tra la massa della particella e l'accoppiamento dell'X con il fermione questo è quello che prevede la teoria allora quello che io posso fare è ricavare le costanti di accoppiamento che derivano da quanto è ricca la produzione quindi quanti eventi mi aspetto e trovo effettivamente nella produzione quanto è grande il picco di X in Z Z quanto è grande il picco in X non è proprio un picco X in WW non è più un picco ma ricavo comunque il numero di eventi da queste distribuzioni di massa posso ricavare la costante di accoppiamento e la metto in funzione della massa della particella e vedo che c'è effettivamente una linearità come mi aspetto questo è stato visto è una pubblicazione anche qua recente forse qua non vi ho messo riferimento scusate però sia Atlas che CMS concordano che questa relazione tra la costante di accoppiamento e la massa prevista dalla teoria è rispettata per tutte le particelle che si riescono a vedere ovviamente il mu ha una barra di errore molto grande perché non riusciamo ancora a ricostruirlo molto male e più eventi raccogliamo e più queste barre di errore si restringono beh allora direi che tutto quello che si poteva fare in un tempo ragionevole sul modello standard è stato fatto qualche slide invece oltre il modello standard oltre il modello standard ci piacerebbe beh innanzitutto completare l'opera di unificazione delle forze magari avere una vera unificazione tra la forza nucleare forte e l'elettrodebole perché per adesso sono le due costanti di accoppiamento sono all'interno del modello standard ma con cappie di accoppiamento completamente distinte tra di loro e magari anche mettere dentro all'interno la gravità allora una forza unificata per quello che abbiamo detto si potrebbe cercare di realizzare chiedendo di nuovo un gruppo di simmetria perché quando ho il gruppo di simmetria poi io costruisco la teoria so quanti quanti mediatori escono fuori chiaramente deve essere un gruppo più esteso rispetto all'SU3 e SU2x1 perché questi mediatori so che ci sono allora ci sono delle teorie basate sui gruppi più grandi SU10 SU5x1 SU3 SU2 SU2x1 dove qua vedete un left e un right lì bisognerebbe entrare nei dettagli left significa lo spin left handle e R sta per lo spin right handle però una teoria se ha una valanga di parametri liberi e non riesce a fare delle previsioni non mi porta molto lontano quindi la sfida non è solo costruire una teoria ma trovare una teoria che possa essere dimostrata quindi che preveda qualcosa e che questo qualcosa poi venga effettivamente trovato allora un paio di slide ci vogliono sul momento anomalo del muone forse ne avete sentito parlare ma non sapete che cos'è il momento magnetico anomalo del muone ve lo spiego veramente in due minuti una particella con carica Q che ruota intorno ad un punto che dista R con una certa velocità V ha un momento angolare questo lo si studia ai primi anni dei licei pari a R vettore P l'impulso che è M per V e una particella carica che ruota ha anche un momento magnetico che è proporzionale al momento angolare la costante di proporzionalità è la carica diviso due volte la massa l'equazione di Dirac prevede che una particella carica con una carica unitaria che chiamiamo E ha anch'essa una relazione tra il momento angolare intrinseco che è lo spin lo spin è un momento angolare ma è intrinseco poi io posso anche avere un momento di rotazione dell'elettrone intorno ad un'orbita e un momento magnetico intrinseco che è pari al doppio rispetto alla relazione classica della particella carica che ruota cioè la correlazione tra mu e spin è pari a E su M allora si introduce questa relazione introducendo un fattore che si chiama giro magnetico G e io mi tengo la relazione classica cioè la carica diviso due volte la massa che per la carica unitaria è E su 2M e dico che nel caso dello spin e del momento magnetico intrinseco la relazione è G per questa costante per S con G che è uguale a 2 ora questa cosa è risultata essere vera che il fattore è 2 rispetto a Q su 2M o a E su 2M ma quando si è cominciato a misurare con precisione il momento magnetico del muore si è trovato che in realtà era circa l'1% più grande di 2 e il motivo di questa deviazione rispetto a 2 è che oltre ad avere un'interazione cioè noi possiamo immaginare un muone con spin che gira in un'orbita mentre gira deve per forza emettere dei fotoni perché cambia di direzione e questo è più o meno come si misura poi il momento magnetico del muone cioè viene fatto girare in circolo e si misura la precessione del momento magnetico allora vengono emessi dei fotoni allora viene 2 se io considero solo questo diagramma iniziale col muone che mette il fotone e poi continua la sua traiettoria un pochettino deviata però in realtà nella meccanica quantistica relativistica ci sono degli effetti radiativi cioè il muone può anche emettere un secondo fotone che poi riassorbe dopo oppure può emettere un fotone che poi si trasforma in copie adroniche quark anti quark che vengono riassorbite e poi si trasforma di nuovo in fotone che viene assorbito dal muone questi contributi radiativi sono piccini ma se uno fa i calcoli si accorge che sono proprio circa l'1% del totale e allora viene definito il momento magnetico anomalo che è anomalo per modo di dire nel senso che è un fattore aggiuntivo rispetto al G che tiene conto degli effetti radiativi e a mu è la differenza rispetto a 2 di G poi è stato definito come G mu meno due mezzi ora come vi avevo detto quello che si fa per misurarlo è quello di far circolare un muone in un percorso circolare allora il momento magnetico ruota intorno quindi fa una precessione rispetto al 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 campo magnetico qua lo vedete che esce dal foglio nel disegno di destra e se G fosse esattamente uguale a 2 questa precessione terrebbe il momento magnetico allineato sulla curva della traiettoria del muone se invece G è un po' diverso da 2 in questo caso abbiamo messo A uguale a 0 1 che è più o meno il valore che ha il fattore anomalo allora c'è una precessione che fa sì che parte allineato e quando arriva è come la freccia rossa cioè un po' deviato il momento magnetico rispetto alla direzione io misuro questa deviazione e ottengo il momento magnetico anomalo ora posso misurare il momento magnetico anomalo sia dell'elettrone che del muone quello dell'elettrone viene misurato con una precisione di 0 2 parti per bilione ed è abbastanza in linea con quello che ci si aspetta con il modello standard per il muone c'è una precisione di misura che è più difficile da realizzare 0 3 parti per milione anziché per miliardo ma è ugualmente anzi è più interessante quella del muone perché avendo una massa maggiore è una misura più sensibile alla nuova fisica cioè questi effetti radioattivi avvengono ad energie più grandi e quindi è più probabile che ci si infili dentro una nuova particella e questi effetti radioattivi che io non ho contato nei calcoli e che quindi mi dà un valore misurato del momento magnetico anomalo diverso da quello che prevede il modello standard ecco questa è la pubblicazione che è uscita il 7 aprile del 2021 dall'esperimento G-2 di Fermilab sostanzialmente qua vedete la misura in arancione le misure in funzione del tempo dal 76 ad oggi di G-2 del momento magnetico anomalo del muone e in blu invece le previsioni teoriche del modello standard voi potreste pensare che il modello standard dovrebbe darvi un valore preciso con precisione infinita ma non è così perché le correzioni radiative non sono facili da calcolare soprattutto i contributi adronici dovuti ai quark e allora nel tempo si è sviluppata una competenza sempre maggiore nell'aggiungere nuove ordini di grandezza aumenta un ordine di grandezza diventa un contributo più piccolo però come sapete dalle serie infiniti contributi infinitesimi ti danno un termine che è finito quindi quando ci sono dei loop che sono infiniti anche se il contributo è piccolo poi io posso inserire degli elementi di diagrammi di Feynman che non avevo considerato prima cambia un pochettino la precisione e tutto ciò che non sono stato in grado di considerare va dentro a un errore sistematico quindi più elementi riesco a considerare nei calcoli radioattivi più la misura diventa che si raffina e l'errore si riduce e in effetti come vedete nel 2021 siamo arrivati ad un'elevata precisione delle previsioni del modello standard e al tempo stesso è anche migliorata la precisione nelle misure sperimentali allora fino alla fine del 2020 era risaputo che c'era una discrepanza tra le previsioni del modello standard delle misure di Gm2 Gm2 di 3.7 sigma cioè una discrepanza importante ma non ancora decisiva l'esperimento Gm2 del TNAL ha aggiunto un punto ad elevata precisione nella misura che ha portato la discrepanza a 4.2 sigma quindi ha fatto molto rumore perché ci stiamo avvicinando ai 5 sigma che diventano la prova indiscutibile che c'è qualcosa al di là del modello standard anche negli esperimenti che si riescono a ottenere tramite degli acceleratori di particelle qua avete il riferimento e potete vederlo direi il tempo è praticamente esaurito ma ancora due minuti per parlarvi oltre al modello standard dal punto di vista astronomico come sapete si dice da tantissimo tempo che c'è un budget cosmico che la materia è ordinaria che conosciamo costituisce solo il 4% del budget cosmico il 23% è fatto da materia oscura e il 73% da energia oscura allora l'evidenza dell'esistenza di materia oscura e beh qua non ci sono grandi dubbi che ci sia qualche cosa che non torna e che ci sia della materia oscura perché osservando la velocità di rotazione delle stelle intorno alle galassie beh ci si accorge che ruotano a una velocità superiore a quanto dovrebbero c'è una normale relazione tra la forza gravitazionale che uno si attende e la forza centrifuga che è la velocità con cui ruotano i pianeti le stelle meglio le stelle che sono quelle che si osservano nella parte più esterna delle galassie e beh io mi aspetto un andamento della velocità al quadrato che vada come uno su r e quindi della velocità che vada come uno sulla radice di r e qua abbiamo per questa galassia l'andamento atteso della velocità in funzione di r che è quella tratteggiata e in rosso invece l'andamento osservato allora l'unica spiegazione sensata è che man mano che io vado sempre più distante dal centro se la velocità non si riduce come mi aspetto è perché io metto dentro all'interno del percorso della nuova massa che aumenta la parte gravitazionale e questa nuova massa è appunto la materia oscura che se non fosse oscura la calcolerei nella stima della massa della galassia e un altro effetto invece è dato da delle osservazioni di lenti gravitazionali che sono sostanzialmente questo cioè una sorgente luminosa se attraversa e viene deviata da una certa massa se la vedo lo capisco che è stata deviata da una massa ma se non la vedo e vedo soltanto un arco anziché un punto capisco che questo arco è dovuto alla deviazione che ha effettuato una massa quindi delle osservazioni astronomiche che mostrano degli archi luminosi anziché dei punti dove in teoria non c'è della massa tra le due parti e sono una dimostrazione che ci sono degli addensati di materia oscura questa è una delle foto che mostra alcune di questi archi allora se è vero che c'è della materia oscura io potrei anche cercare di osservarla naturalmente la posso osservare solo se non è totalmente oscura cioè se una piccola interazione ce l'ha con la materia ordinaria allora sono state ovviamente deve essere piccola se no sarebbe già stata osservata questa interazione e se è piccola vuol dire che queste interazioni sono rare quindi mi devo mettere nell'underground di un laboratorio e devo cercare di osservare degli eventi rari all'interno di una certa grande quantità di materia che fa da interagente che deve essere super pura dal punto di vista radioattivo se no io ho i raggi cosmici ho le radiazioni e non riesco a distinguere dal fondo questi grandi laboratori nell'underground se ne abbiamo ad esempio al Gran Sasso sono stati costruiti e per adesso non hanno dato segnale evidente di particelle cioè vuol dire che queste particelle weakly interacting l'interazione è molto debole mi aspetto che ci siano ma è molto debole questa va beh forse è il caso che passi velocemente perché non abbiamo tempo ma è un articolo del 2008 che vi fa vedere che noi conosciamo il percorso dei pianeti del sistema solare con estrema precisione se guardate l'errore conosciuto su A cioè sul semiasse maggiore qua stiamo parlando di metri quindi conosciamo i percorsi dei pianeti con estrema precisione allora se noi ipotizziamo di avere un alone di materia oscura centrato con il sole a questo punto posso capire che il fatto che ci sia o non ci sia la materia oscura mi dovrebbe cambiare la traiettoria dei pianeti e magari riesco a capire quanta materia cioè riesco a vederla questa materia oscura dal percorso dei pianeti questa era l'idea di questo articolo il punto è che la materia oscura è distribuita sulla galassia e la galassia è fatta sì da pianeti ma un po' come l'atomo è fatta soprattutto da spazi vuoti quindi dal punto di vista del sistema solare di quantità di materia oscura in una piccola parte della galassia ce n'è pochissima il valore atteso della densità è 0,3 protoni e a me ne servirebbero 100.000 per vedere con queste precisioni delle deviazioni quindi è un'idea buona ma che non ha funzionato un'altra possibilità negli acceleratori è di produrle queste particelle che interagiscono poco non le osserverò però se si portano via dell'energia vedrò dell'energia mancante cioè degli eventi sbilanciati e anche qua non è stata osservata dal punto di vista teorico c'è una teoria che prevede che per ogni particella esista un partner supersimmetrico e che anziché un X solo standard ne esistano 5 di cui 2 sono carichi e che la particella supersimmetrica più leggera sia un possibile candidato a WIMP e si chiami neutralino ora qua vedete una pubblicazione che è appena uscita pubblicata il 22 marzo 2021 su Archive e per adesso solo sottomessa che fa vedere il limite di Atlas cioè Atlas non ha trovato un'evidenza di neutralino però ha detto se il neutralino è prodotto insieme a questo sleptone c'è un limite non può avere certi valori di massa che sono stati esclusi questo è il lavoro che si fa quando non si trova l'evidenza di una nuova particella si prende una teoria e si dice guardate se questa teoria è valida questi parametri sono esclusi dagli assolvazioni sperimentali e infine finisco con l'energia oscura voi sapete e immagino avrete studiato la costante di Hubble cioè immaginate un'espansione dell'universo questa palla su cui stanno le galassie che si espande a una certa velocità e immaginate due galassie che stanno a una certa distanza la distanza e la velocità sono tra loro correlate da una costante che è chiamata costante di Hubble che attualmente è stimata a circa 70 km al secondo per megaparsec ora io posso stimare la velocità delle galassie guardando lo spostamento verso il rosso delle linee spettroscopiche questo può anche avvenire osservando lo redshift di determinate stelle lo redshift spettroscopico io so che sulla Terra il ferro ha una certa linea spettrografica e se trovo una linea leggermente spostata ma più o meno vicina a quella del ferro capisco che è un redshift cioè è dovuto al fatto che è del ferro che si sta muovendo all'interno di una stella e quindi stimolo da questo shift la velocità di spostamento della stella e poi posso misurare invece la distanza della galassia usando quelle che si chiamano supernove di tipo 1a che sono delle candele standard di cui io mi aspetto una luminosità ben definita e le differenze di luminosità possono essere date cioè mi indicano qual è la loro distanza rispetto a noi semplicemente una perdita di luminosità di tipo geometrico allora queste questo l'ho scritto ecco qua non vi ho letto l'ultima parte le osservazioni delle supernove più distanti danno una informazione interessante perché risulta che l'universo anziché espandersi a velocità costante risulta che stia accelerando ora questa accelerazione nell'espansione dell'universo non si riesce a spiegare se non postulando un tipo di energia con pressione negativa che è chiamata energia oscura di cui io posso stimare la densità di energia e quindi stimare la quantità di energia che mi aspetto che ci sia attualmente nell'universo da qui viene fuori il budget cosmico cioè quanta energia mi serve per spingere e accelerare l'universo con questi valori che sono stati osservati allora vi devo dire che mentre sulla materia oscura grossi dubbi non ce ne sono sull'energia oscura ci sono delle discussioni ad esempio nel 2000 degli astronomi dell'Ionsey University hanno pubblicato un articolo in cui sostengono che ci sia una correlazione tra le luminosità delle supernove 1a e la loro età se questo fosse vero vorrebbe dire che non possono essere più considerate delle candele standard e se non sono più delle candele standard allora queste misure sulla accelerazione potrebbero non essere così accurate però insomma io prima di fare questa presentazione ho parlato con un collega che un astrofisico si occupa solo di quello che mi ha detto sì questa è una delle osservazioni quest'articolo non è ancora stato analizzato con dettaglio dalla comunità quindi per adesso resta come teoria base quella dell'accelerazione dell'universo e questa diciamo obiezione è una delle varie che vengono fatte che devono ancora essere studiate e valutate insomma ci si sta ancora lavorando su questo aspetto però è comunque interessante quello che è stato osservato cioè materia oscura pare sicura dalle osservazioni che nessuno riesce a confutare in modo diverso e pare anche che il modello standard comincia a scricchiolare dalle nostre osservazioni l'unica cosa che non vi ho ancora detta è che l'anomalia del momento anomalo magnetico del buone che è arrivato a 4.2 sigma non è l'unica ci sono anche delle misure sulla violazione del sapore leptonico leptor flavor violation che sono state pubblicate recentemente dall'esperimento LHCB che danno delle deviazioni rispetto al valore atteso dallo standard model di 3.5 sigma allora quello che succede adesso è che abbiamo diverse anomalie ma non ancora 5 sigma quindi non abbiamo ancora una certezza che abbiamo nuova fisica ma ci siamo abbastanza vicini e una volta che avremo qualche certezza dovremmo anche cercare di capire qual è la teoria giusta che ci sta sotto e direi che è tutto scusate se sono stato lungo grazie 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 professor Torassa grazie Ezio è bellissimo e penso che vabbè io la cosa che ho apprezzato di più non ho colto moltissimo delle cose più avanzate ma è la sensazione di aver dato un'occhiata al modo di ragionare della fisica moderna senza averne mai fatto parte non so gli altri cosa avranno raccolto ma è stato molto molto bello e anche la visita all'acceleratore è abbastanza emozionante se qualcuno trova qualche imprecisione me la comunichi sicuramente l'unica imprecisione che hai messo la data delle slide direi tra due anni aprile 2023 senti volevo solo fare una domanda una mia curiosità l'ho scritta ma non è stata accolta che tu sappia al CERN vengono utilizzate delle trappole tipo penning tipo penning cioè mi puoi ricordare sono delle trappole sostanzialmente che servono per rimagazzinare antimateria e per fermarla cioè sono trappole che sono fatte a forma toroidale sostanzialmente e su quelle invece di andare a velocità come diciamo prossime a C poi si può studiare la materia ferma questo lo so perché era uscito un articolo un po' di tempo fa sul primo atomo costruito di antimateria però non ho più seguito dopo questo articolo l'avevo letto non ho più seguito ad oggi cosa sono riusciti a fare te lo chiedo così per curiosità perché io nella mia tesi ormai 35 anni fa avevo costruito penso la prima trappola con gli NFN appunto di tipo penning che poi era stata portata al CERN la mia collega che aveva seguito poi la tua tesi dopo di me poi era venuta al CERN aveva continuato ma poi non ne so più niente insomma va bene allora intanto questa pubblicazione se non ti hanno ringraziato tu sai che un po' l'hai contribuito anche tu molto bene e va bene ti rinnovo i ringraziamenti vi do appuntamento a tutti a venerdì 7 maggio sarà con noi Ferdinando Patate dell'ESO ci parlerà di supernove quindi torneremo su un tema più strettamente astronomico grazie a tutti buonanotte